Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti tra Calenzano e Barberino, per lavori rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassi a senso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Infruneta e Firenze fino al 31 maggio. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.